Tommaso Ghezzi, stasera sono triste, sono triste perché? Perché è l'ultima serata del Live Rock Festival, l'ultima puntata di Diretta Rock qua dall'ex fierale di Acqua Viva, ma saremo subito prontissimi per raccontarvi quello che accade qua questa sera. Allora Tommy, tutto normale, tutto regolare, splende il sole su Acqua Viva. Soprattutto dentro. Dentro. Allora, prima di parlare della serata di questa sera, ieri sera altra seratona che poi ovviamente si è spostata tutto al Piranha Social Club, abbiamo tirato fino a tardi, 4, 4 e mezzo, qualcuno anche 5. E tu Tommy, come sei? Come sei arrivato a questo quinto giorno di Live Rock Festival e ultimo giorno di Live Rock Festival? Il collettivo Piranha, io come tutto il collettivo Piranha sono allegramente stanco, meravigliosamente perché è stata un'edizione memorabile. Adesso c'è l'ultima serata, però per adesso queste quattro serate sono state meravigliose. Ieri sera probabilmente abbiamo avuto una delle serate più memorabili della storia di Live Rock Festival con il concerto di Anna Calvi che è stata, a mio parere, ma secondo me anche da parte di molto del pubblico presente, uno dei concerti più importanti che si hanno mai passato per questo parco, per il parco ex federale di Acquaviva e di concerti importanti qui ce ne sono passati. Quindi abbiamo ancora tutta l'emozione nel sangue che pulsa, che batte, pronti, ci accompagna in questa ultima serata. Questa sera chi calcherà il palco dell'ex federale di Acquaviva? Questa sera abbiamo delle scelte veramente molto belle. Iniziamo con gli Zabelov Group, che sono un duo che viene dalla Repubblica Ceca. Pensate che... Ma diciamo come sono arrivati? Esatto, allora, questa è una storia molto divertente. Sono arrivati con un furgone da Praga e sono arrivati questa mattina, cioè stanotte alle 5 di mattina e niente, dovevamo accoglierli. È stato molto divertente vederli arrivare. Sono venuti col furgone. E sulle prime abbiamo detto, sì vabbè, cioè gente che viene da Praga con il furgone, magari ha qualche disagio. Invece no, abbiamo sentito adesso il soundcheck, è clamorosamente bello. Loro veramente fanno... sono fisarmoniche, batteria e suonano su delle... su dei tappeti elettronici, variano dal post-rock al jazz e sono clamorosamente fighi, possiamo dirlo. Subito dopo, la rappresentante di lista. A detta della critica, il miglior concerto live della scena indie italiana dell'ultima stagione. Siamo riusciti ad averli qui ad Acquaviva con molta gioia. Hanno montato una bella scenografia, perché loro vengono dal teatro, hanno un passato molto drammaturgico e portano questo live, portano il loro ultimo disco, Go Go Diva, veramente bello. Sarà uno show. Dire concerto è limitativo, perché è veramente uno spettacolo. E poi chiuderemo con i cacao mental. I cacao mental sono italiani per contratto, diciamo, per carte, per documenti, ma in realtà sono mezzi peruviani. E quindi la loro musica mescola la cumbia e il suono del Sud America con Milano, con la metropoli occidentale. E quindi chiudiamo... Stasera ci sarà un bel giro del mondo qua, riunito al Live Rock Festival. Come dice la Lalla, ormai da... La Lalla Savini che è con me sul palco, che salutiamo. Come dice ormai da 23 anni, la grande musica del mondo per il Live Rock Festival. Per il Live Rock Festival. Allora Tommy, questo era il programma di questa sera, ricchissimo. Voi vi raccomando venite qua all'Exferiale, perché è già tutto predisposto. 9.30. Le cucine vi aspettano, il palco vi aspettano. E allora Tommy, adesso c'è lui. Lui, il presidentissimo. Sono emozionato. Il presidentissimo della festa. Dobbiamo fare l'entrata con il botto. Sei pronto? Vai. Al mio tre. Uno, due, tre. Andrea Mezzanotte! Eccolo qua, il presidente. L'entrata con il botto di Andrea Mezzanotte. Benvenuto, presidente. Ma come? Ma come è l'ultimo anno? Ci spoileri già così questa notizia? Ma la seconda domanda, allora, prima di andare a vedere che cosa accadrà nel futuro. Quinta serata. Tommaso ci ha illustrato quello che vedremo qua questa sera nel palco. Primi bilanci. Dai, quinta serata, primi bilanci. Che edizione è stata? Grandiosa. Ormai sono alcuni anni che ci togliamo delle soddisfazioni. Dobbiamo dire che questa macchina funziona sempre meglio. Siamo pronti sempre a partire con l'acceleratore a palla. L'unica cosa che ci può disturbare, ma non fermare, è il meteo. È stato grandioso, ci ha graziato. Speriamo di mettere in scena anche questa sera l'ultima grande serata. Anche divertente, perché con il cacao mental sarà un vero e proprio divertimento. E finale di festa, con gioia, con i nostri volontari che ormai saranno stremati, ma penso che troveranno le ultime forze per essere sotto il palco e urlare gioia e soddisfazione. E' un urlo liberatorio per tutti. Assolutamente sì. Senti Andrea, durante le nostre dirette abbiamo parlato dell'aspetto ambientale, dell'aspetto sociale, che tra l'altro questa sera avremo ospiti in Terzos. Un festival portato come esempio. Sì, siamo diventati anche influenti per queste iniziative che facciamo parallelamente alla musica, che poi hanno dato un'impronta a 360 gradi. Qui puoi trovare un po' di tutto, dalla parte gastronomica, dai nostri partner che vengono qua, che spieghiamo tutti gli anni, che sensibilizzano un po' su temi rilevanti, importanti, che vanno comunque sostenuti, su cui crediamo fortemente. Abbiamo voi che ci date il vostro contributo. Abbiamo un po' di tutto. Solitamente vieni ad un festival per i concerti, ovviamente, però ti ritrovi in mezzo ad una famiglia, prima di tutto, ad un contesto con un'atmosfera molto particolare. Chi è venuto, anche degli artisti o degli ospiti o di persone che sono venute da fuori appositamente, ci riportano questa sensazione che poi viviamo tutti, effettivamente. Che qua dentro c'è una sensazione, un'atmosfera, l'atmosfera giusta proprio per stare insieme e fare una vera e propria festa, che poi è diventato un festival musicale. E quindi puoi passare una serata tranquillamente con il concerto, oppure a goderti la serata in mezzo a questi giardini che ci stanno regalando tutte queste soddisfazioni. E il pubblico ce le riporta, che poi è la moneta che ripaga tutti quanti i volontari. Questa qua è la soddisfazione enorme per un lavoro che dura un anno e che cinque giorni porta via tutte le forze possibili e immaginabili. E questa è la moneta che ripaga tutti quanti noi. Senti, tu hai detto che il prossimo anno non ci sono, perché forse, diciamo forse. Quanti anni sei stato alla guida del Live Rock e che cosa ti ha regalato questa esperienza? Allora, questa è la sesta edizione. Poi ho detto che non ci sono semplicemente perché scadrà il mandato del consiglio direttivo a marzo, quindi sarà tutto nuovamente in ballo. Ho fatto due mandati, quindi questo sarebbe il terzo. Non lo so se ho le forze per andare oltre, però diciamo che è stata un'esperienza unica, una crescita personale, professionale, anche professionale sicuramente. Perché comunque l'atteggiamento nostro è proprio quello di avere un'impostazione di questo genere, anche perché altrimenti una manifestazione di questo genere non sarebbe possibile organizzarla. E probabilmente è più accostabile a dei professionisti per i propri che a dei volontari a volte. Invece ci sbagliamo perché nel corso degli anni, passo dopo passo, riesce a diventare professionale e poi un professionista. Effettivamente è così. Quindi, niente, mi ha dato grandi gioie. La consiglierei a tutti. È un'esperienza impegnativa sicuramente con l'ansia addosso che probabilmente ti accompagna per molte giornate, però ne esci fuori soddisfatto, realizzato e contento. Tommy, hai qualche domanda? Ti vedresti come presidente del collettivo Piranha? Sì, per un fallimento totale di un'attività che va avanti da 22 anni. Però no, al di là delle stupidaggini. No, durante l'ultimo mandato di Andrea si è verificata un'iniziativa abbastanza importante, ovvero a maggio il collettivo Piranha ha inaugurato un nuovo spazio. E quindi se fino al 2018 le attività del collettivo Piranha si concentravano per il Live Lock Festival, adesso Acquaviva diventa un presidio culturale per tutto l'anno. Quindi tu sarai presidente fino a marzo, quindi un po' di stagione invernale quest'anno te la becchi. Quali sono le prospettive e cosa sta per diventare il Piranha Social Club? Uno spazio che poi sarebbe stato quasi inimmaginabile se non fosse stato per la situazione sociale che poi si è creata in questo periodo. Abbiamo avuto coraggio a fare questa cosa sicuramente, è una cosa molto coraggiosa, oltretutto, come ho detto prima, per quello che riguarda l'organizzazione di questo festival, quindi c'è già un impegno annuale. Però ce la siamo sentita e siamo andati avanti. Abbiamo creato questo nuovo spazio che è il vecchio bar, per carità, quello è, il locale è rimasto più o meno quello, però è cambiato radicalmente perché è una cosa assolutamente nuova, soprattutto per Acquaviva e forse anche per il territorio comunale. Questo circolo Arci è uno spazio nuovo, uno spazio dove possiamo mettere in pratica le idee, le attività, il nostro credo, le nostre finalità, e che vedrà in questa stagione autunnale e invernale un programma che abbiamo già portato, presentato per due mesi in apertura. Vedrà diverse attività, live musicali ovviamente, DJ set, proiezioni, presentazioni, libri, approfondimenti, incontri, tutto ciò che si può mettere in pratica. Ce lo dobbiamo ancora inventare sinceramente, anche perché ci siamo stoppati per questa cosa. Per questa piccola attività. Per questa cosa, guarda, non so. Però lo metteremo, lo penseremo molto presto. E l'ultimissima cosa, poi lasciamo, l'ho lasciata per ultima, ma è una novità di quest'anno e ci fa estremamente piacere, che è Gaia Trabalzini, che quest'anno valorizza, dà un valore aggiunto alla manifestazione in questo live painting che è andato in scena sia al nostro Piragna Social Club, durante i 10 set della serata, e qua con voi, che insomma valorizza anche, dà uno spessore in più artistico a questo spazio, anche se forse sarebbero passate le camicie dei Banini, ma vabbè. Che tra l'altro questo spazio è stato ribattizzato l'angolo dove nascono le idee. Bellissimo, bellissimo. Dove l'avete messa e non lo so? Nelle borse, nelle borse. Allora Andrea, noi ti ringraziamo, ti lasciamo alla tua postazione, ovviamente, a smistare i camerieri e la cucina, che tra pochino vedremo. Sono già in pompa, eh? Eh, sei prontissimo, eh? Poi arriva la Chiancianesi con la comanda, e tac, e andiamo. Allora, grazie Andrea. Tommy, forse ci risolverai sorprese stasera. Forse, forse. Comunque ci vediamo dopo. Comunque ci vediamo dopo. Allora, visto che Andrea l'ha salutata, io la raggiungo. Eccola qua, la nostra Gaia Trabalzini, che tutte le sere ci ha accompagnato, tutte le dirette ci ha accompagnato con il suo live painting. Allora, il live painting è finito. L'abbiamo intitolato Amalgam ambientale. Non si sa com'è venuto questo nome, ma va bene così. Allora, riandiamo dietro, perché così almeno vediamo anche l'altro, che è quello che andrà poi sovrapposto. Allora, raccontaci. L'opera è finita? È finita e verrà installata nella sua postazione finale, come dovrebbe essere. E quindi, niente, stasera sarà giusto per gli osservatori fermarsi a guardare. Per fare sicuramente foto. Ma a me mi basterebbe anche, cioè mi dà soddisfazione quando uno si mette lì, ci gira intorno e... Niente. Non so bene ancora quale sarà la sua destinazione, dove sarà possibile comunque vederla, vita naturale durante. Però, già questo è un buon inizio e è stata un'edizione che mi ha dato tante emozioni, giusto, soprattutto per questo live painting. E sono molto felice, molto soddisfatta. Ecco, infatti, la mia domanda è giusto appunto la tua esperienza qua a live, che ovviamente anche tu sei cresciuta con questo grande evento, dove quest'anno, in qualche modo, ha portato anche la tua firma. Sì, è una grande soddisfazione e sono veramente molto felice, proprio perché sono nata con il Live Rock Festival nel 97, è l'anno della mia nascita e l'anno della nascita del Live Rock Festival. È una festa che io aspetto tutto l'anno come tutta acqua viva e sapere di essere riuscita a farne parte con la mia arte, con quello che so fare io, mi ha reso parte ancora di più di questa festa. E lavorare insieme comunque agli artisti in questa zona con la loro musica e quindi imprimere, in un certo senso, la loro musica nelle mie opere mi ha reso questa edizione una delle migliori che io abbiamo mai vissuto. Forse è la migliore. Senti, l'altra tua opera è possibile vederla al Social Club. Quella, anche quella, è terminata? Quella si sovrapporrà? Quella non è terminata, una è terminata, l'altra ancora no, avrà la sua fine questa sera. e quelle due non verranno sovrapposte, verranno semplicemente messe una accanto all'altro perché daranno l'idea della panoramica di un concerto che è il pubblico del Live Rock Festival. E allora, noi ovviamente, se volete venire a conoscere la nostra Gaia, sarà qua al nostro angolo dell'idea in movimento oppure al Social Club. Allora, noi ti ringraziamo anche per averci supportato in questa nostra diretta. Sei stata bravissima a fare le interviste. La prima sera Gaia mi diceva ma no, io non so fare le interviste. Sei bravissima. Piano piano. Piano piano. Sicuramente la rivedremo sui teleschermi della Val di Chiano. Grazie Gaia, rimani ovviamente con noi. Allora, noi torniamo alla nostra postazione. Io mi metterei, faccio il giro qua e arrivo da Giovanni. Giovanni di Interzoss. Anche Interzoss quest'anno non è voluta mancare al Live Rock Festival. Perché dico anche quest'anno? Perché tutti gli anni è presente. Da quanti anni siete presenti qua al Live e perché non volete mancare a questo fantastico festival che come ho detto rappresenta anche importanti realtà ambientali, sociali, musicali e culturali? Siamo qui da quattro anni ormai da quando un gruppo di associazioni di questa zona ha lanciato una campagna insieme a noi che si chiama Europa Senza Muri e che nasce proprio dall'idea di creare luoghi di incontro dove le persone possono incontrarsi, dove le persone possono far vivere dei valori in cui noi crediamo che sono quelli dell'accoglienza e dell'inclusione sociale e non c'è niente di meglio dei posti dove le persone si incontrano. Quindi il collettivo Piragna che sono i ragazzi straordinari che organizzano il festival insieme alle altre associazioni della zona sono diventate ormai una parte di quella organizzazione umanitaria di quel mondo umanitario di cui Intersos fa parte. E parliamo allora a questo punto dei progetti di Intersos. Intersos in questo momento lavora in 16 paesi del mondo in tutti i paesi in cui ci sono situazioni di emergenze umanitarie guerre, catastrofi naturali persone che hanno bisogno dell'aiuto umanitario per sopravvivere poi questo è il nostro lavoro. È un'organizzazione italiana Intersos questo mi piace sempre ricordarlo ma mi piace ricordarlo perché tante volte si fanno delle polemiche sulle ONG su che cosa fanno le ONG e invece le ONG sono fatte di ragazzi spesso giovani ragazzi italiani che vanno in giro per il mondo e che fanno il loro lavoro con un'estrema competenza professionalità capacità si fanno valere sono medici sono ingegneri sono esperti di protezione umanitaria sono psicologi sono logisti e sono persone che fanno un lavoro bello per aiutare altre persone con grande capacità Ecco parliamo appunto delle persone sul territorio quante persone fanno parte di Intersos? Noi adesso diciamo ci sono due anime di Intersos ma alla fine sono la stessa anima ci sono gli operatori umanitari che stanno all'estero e che portano aiuto direttamente a quelle popolazioni che si trovano in situazioni di conflitto o di emergenza umanitaria e poi ci sono le tante persone con i gruppi locali come questo della Val di Chiana ne abbiamo tanti altri che ci aiutano in Italia e sono altre migliaia di persone che scelgono di fare una scelta nella vita quella di difendere uno spazio ci sono ci sta chi vuole costruire i muri in questo momento del mondo e c'è chi invece vuole fare spazio e noi vogliamo fare spazio e costruire uno spazio che è lo spazio umanitario che è lo spazio in cui la vita e la dignità delle persone di tutte le persone si afferma liberamente Senti noi questa sera condivideremo questo spazio questo angolo delle idee in movimento quando le persone si avvicinano a voi che cosa vi chiedono per la maggior parte? Le persone ci chiedono spesso come possiamo aiutare allora spesso ci dicono ma possiamo fare del volontariato con le persone che aiutate e noi diciamo beh no non mandiamo persone che non sono state formate e lì dicevo i ragazzi giovani italiani ma professionisti e noi mandiamo per il mondo non mandiamo delle persone che non sono formate per farlo in zone di guerra però ci potete aiutare invece facendo un'altra cosa raccontando che cos'è il lavoro umanitario aiutandoci anche economicamente ma anche organizzando eventi e momenti di incontro di confronto con altre persone e questo per noi è fondamentale perché se le organizzazioni umanitarie esistono è perché sono fatte di persone che lavorano ma anche di persone che le sostengono sono appunto organizzazioni indipendenti e quindi come ci potete aiutare facendo questa bellissima opera di volontariato che è aiutarci ad allargare lo spazio umanitario ecco in chiusura prima di salutarti riassumici in tre parole che cos'è il lavoro umanitario il lavoro umanitario è garantire la protezione delle persone e cioè fondamentalmente l'affermazione dei diritti umani delle persone la famosa dichiarazione universale dei diritti umani ma questo poi si traduce in cose molto concrete che è l'accesso alle cure mediche l'accesso all'educazione l'accesso all'acqua potabile ai servizi igienici la protezione delle vittime di violenza tutte cose che sembrano scontate ma che invece in alcuni paesi del mondo in tanti paesi del mondo in tanti contesti di guerra non sono scontate per niente e bisogna combattere tutti i giorni per realizzarle ed affermarle e per ribadirle sempre e sottolinearle grazie Giovanni ovviamente Giovanni ed Interstos vi aspettano qua al nostro angolo delle idee così li potete conoscere e parlare di questa realtà grazie Giovanni di essere stati con noi a questo punto inizia il mio tour del Live Rock Festival di Acquaviva come vedete non c'è una nuvola sul nostro cielo occhio Banini che c'è un sasso il palco è pronto prontissimo per la diretta di per la diretta ovviamente siamo in diretta per la serata di questa sera un palco completamente rivoluzionato questa sera e noi ci avviciniamo dai nostri amici dell'Avis e come vi ricordo tutte le sere quest'anno il nostro spazio pubblicitario è stato devoluto in beneficenza alla iniziativa dell'Avis di Monteculciano e dei suoi 60 anni e io mi avvicino ancora una volta per l'ultima volta finalmente di queste sere perché Giuliano non ne vuole più di vedermi qui con il microfono e la telecamera allora Giovanni facciamo ci dobbiamo spostare più qua ci dobbiamo spostare più qua allora Giovanni un bilancio di questi 5 giorni di Live Rock quante persone si sono avvicinate quante persone hanno aderito direi un bilancio positivo perché siamo a circa 40 iscrizioni a 40 domande di iscrizione all'Avis in queste sere appunto relative a Live Rock Festival e di questo ne siamo veramente felici e contenti poco fa pochi un minuto fa è venuta una ragazza spontaneamente senza avergli chiesto niente ha detto io mi voglio iscrivere all'Avis ha detto mi voglio iscrivere all'Avis e questo ci fa piacere perché se i ragazzi i giovani credono in il nostro ideale nei nostri scopi nei nostri obiettivi anche a noi un pochino più avanti con l'età insomma ci dà soddisfazione di affiancarli ecco a proposito di affiancamento rilancio un appello quello che cerchiamo giovani sì per i nuovi donatori perché bisogna essere soci donatori ma anche per aiutarci a livello di dirigenti cioè a gestire l'associazione abbiamo bisogno di rinnovamento e quindi siamo aperti avete bisogno di rinnovamento e di affiancamento perché l'attività dell'Avis non finisce qua voi avete un programma di appuntamenti ed eventi dove il pubblico vi potrà trovare dopo il live rock esatto proprio qui ad Acquaviva di Montepulciano saremo presenti anche per la fiera di San Vittorino e questo ci è stato chiesto dal suo presidente di essere qui presenti e noi lo faremo con immenso piacere dopodiché ci sono altre attività altre associazioni cui abbiamo in programma abbiamo preso i primi contatti per poter arrivare insomma al mese di novembre dove concluderemo con il concorso con il concorso appunto scolastico sul dono del sangue e faremo la festa conclusiva insomma a cui Valdichiana News Teridea o tutti coloro che ci hanno sostenuto in particolare Valdichiana News che colgo l'occasione ufficialmente per ringraziare di averci dedicato il ricavato degli sponsor a loro destinati e colgo l'occasione per ringraziare ufficialmente ma non tanto io personale quanto a nome di tutta Avice e di tutta l'associazione grazie 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 Giuliano e speriamo di continuare con la serata questa sera noi andiamo proseguiamo vi facciamo vedere salutiamo l'eco bicchiere ciao ragazzi ciao Mirko con la cappa ciao ciao ragazzi ciao a tutti vediamo che le cucine sono in gran fermento e noi questa sera vi porteremo proprio dentro le cucine a vedere quello che voi umani non potete vedere allora vediamo qui i ragazzi di smistamento camerieri e smistamento comande questi sono i ragazzi che ci salutano buonasera buonasera a tutti scusate l'incursione vi faccio fare un rapido giro perché intervistare tutta questa macchina da guerra che c'è qua dietro è veramente ciao buon lavoro buonasera buonasera a tutti allora io vi faccio fare il giro veloce perché ovviamente qua c'è veramente una macchina da guerra cameraman puoi girare guardate che bellissimo Nico con il vassoio vieni 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 ancora tu non ti avevamo incontrato per farti l'intervista allora che cosa ci fai questa sera con il vassoio allora noi stiamo praticamente portando il cibo agli artisti che stanno per esibirsi quindi insieme a Direne e con Andrea ci occupiamo del backstage e ci prendiamo cura di loro di cura di loro e di cura di voi perché sì abbastanza domanda tecnica quanti ragazzi sono addetti al servizio ai tavoli più o meno più o meno credo che all'incirca siano una sessantina i ragazzi che sono addetti ai tavoli e che tutte le sere appunto si occupano di portare il cibo a tutte le persone che scelgono di venire a mangiare qua al Live Rock Festival e allora venite a mangiare al Live Rock Festival noi ti lasciamo andare agli artisti vieni vieni con me adesso io mi sposto là là c'è dove si smista i pisci e la pasta qua ci sono i nostri ragazzi che stanno mangiando ciao ragazzi perché sei così triste stasera perché è la fine del Live Rock anche per quello e perché sei stanzo io ti ho visto tutte le sere che hai corso su e giù per te quante persone hai servito in queste sere tante tante parecchie e stasera pronto a dare il meglio di te boh speriamo ma che andiamo qui dal palco alla cucina Lalla Savini eccola allora siamo pronti per questa ultima serata di Live Rock ma io siamo sempre pronti noi Piragna no siamo sempre pronti la voce dove l'hai lasciata no la voce ma c'è c'è ho scongiurato un mal di gola ma da qualche parte deve riuscire quindi ho preservato la voce al discapito del raffreddore anche perché questa sera ci vuole buonasera acqua viva non può mancare non può mancare assolutamente mai senti ma tu sei stata la fautrice della serata Glitter Soiree e Rainbow Night il prossimo anno dobbiamo prenderlo come master assolutamente come master prossimo anno partirà la Glitter Night la Rainbow Night e poi purtroppo mi è venuta tardi l'idea oggi perché si va un po' rallentati perché il giorno lavori capito devi anche dormire e il prossimo anno acquisteremo tanti occhiai da sole tutti colorati e li porteremo e faremo l'occhiai da sole colorato night poi gli daremo un nome un pochino più Summer Grass Night perfetto grazie Vale io ce l'abbiamo Summer Grass Night capito e quelli li utilizziamo per le serate in cui minaccia pioggia tipo questa non lo diciamo non lo diciamo non lo diciamo noi con la pioggia noi ti aspettiamo di vedere sul palco per il saluto di questa sera dell'ultima notte del Live Rock Festival io continuo il mio giro sì ciao grazie ci vediamo dopo vieni vieni adesso io vi faccio vedere non so dove sto andando ma va bene lì lì c'è il reparto contorni qua ci sono altri ragazzi vedi vedete questo è il reparto paninoteca è il reparto paninoteca ciao ragazzi che mi raccontate? che mi raccontate? com'è la situazione qui? bene si beve si beve si mangia quanti hamburger si preparano a sera? 200 a sera 200? no qual è il più richiesto? l'americano toscano toscano buon lavoro ragazzi scusate stavo cadendo questo è il reparto pizzeria che vedete come una catena di montaggio e quindi ora usciamo usciamo e vi riporto a vedere ovviamente quello che sta succedendo ciao Andrea vi riporto a vedere quello che sta succedendo al di qua della cucina rincontriamo Nico in partenza con gli artisti chi c'è qua? ah devo uscire da di qua scusate ma non capivo mi ero un pochettino persa allora venite buonasera a tutti buon appetito allora questo è tutto il reparto questo è tutto il reparto ristorazione vedete come stanno lavorando alla grande e alla cremente tutti i ragazzi del nostro staff regia dove devo andare? che cosa devo fare in questo momento? ah abbiamo Tommaso Ghezzi Tommaso Ghezzi che sta facendo pubblica relazioni cose che dovrei fare io ma che non le farò Tommy allora mettiamoci a favore di luce a favore di luce non piove quindi vi dimostriamo che non piove queste sono luci del palco che ci stanno illuminando il cielo è limpido limpidissimo mai stato così limpido e no niente abbiamo preparato non sono riuscito a portarti degli artisti stasera stasera è un po' difficile durante la diretta rock ma chi segue la Valdichiana nei prossimi giorni avrà una chicca che ho achittato proprio in questi ultimi minuti anche perché dobbiamo tenere lì il nostro pubblico perché deve continuarci a seguire tutti i nostri approfondimenti approfondimenti della Valdichiana ovviamente oltre a quelli del live rock Tommy quindi abbiamo finito anche quest'anno? allora io ancora non mi faccio scendere la lacrimuccia perché mi scenderà stasera intorno a luna luna e mezza dopo i cacao mental forse le due perché sarà veramente la fine di questa ventitreesima edizione bellissima più tardi mi troverete a piedi nudi a ballare su questo parterre e quindi che dire ci vediamo al parco ex virale venite da qua a vivere rimanete connessi con la Valdichiana ciao a tutti ciao a tutti